1, 2, 3, 4 Ok, via raggi! Viate tronchi! 1, 2, 3, 4 Stai l'ambiente, mani! Ready, come, via! 1, 2, 3, 4 Stai l'ambiente, mani! 1, 2, 3, 4 Stai l'ambiente, mani! 1, 2, 3, 4 Stai l'ambiente, mani! 2, 3, 4 Stai l'ambiente, mani! no, no c'è quello che fa in generale no, 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 no! no, 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 no Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!